Considerare i musei una risorsa economica per il territorio salernitano, questo il senso della conferenza svoltasi presso la sede della soprintendenza di Salerno. A partecipare il coordinatore nazionale CISL beni culturali Giuseppe Nolè, che si è soffermato sulla necessità di fare rete e di rendere più dinamici i poli museali. Noi crediamo che la riforma Franceschini vada migliorata in alcuni aspetti, non va rivoluzionata, va ridato centralità al ruolo della tutela, quindi le soprintendenze, gli archivi di Stato e le biblioteche, però i musei autonomi e i poli hanno svolto un ruolo importante in questi anni. Certo, sui poli ci sono delle problematiche di carattere organizzative che vanno riviste, come ad esempio in Campania, va data maggiore supporto al territorio delle province di Salerno, Avellino e della parte meridionale della regione Campania, che sono un po' scollate dalla realtà di Napoli e del polo della Campania. E' naturale che la Campania con siti importanti come Pesto, Pompei, Napoli, la soprintendenza di Salerno e di Avellino deve avere la giusta attenzione, anche perché c'è un risvolto occupazionale importante per questo territorio e per questa regione. Noi chiederemo che, contrariamente al concorso del 2016, i posti vengano messi a bando su base regionale, così ci sarà un'opportunità di implementazione e di occupazione anche per i tanti giovani che studiano nelle realtà locali, tipo l'Università di Salerno, e che avranno l'opportunità di mettere a frutto i propri studi all'interno del Ministero.